Sì, sì, le ho scelte le ho già fatte, io ai ragazzi oggi ho già comunicato la formazione, quindi... Quindi la possiamo dire a questo? No, non ve la dico, questa volta non per correttezza nei confronti loro, ma perché non voglio anticipare niente o agevolare in qualsiasi modo anche i nostri avversari, però è chiaro che dobbiamo tenere in considerazione tutto, dobbiamo tenere in considerazione quando si scelgono gli interpreti con i quali iniziare una gara, si scelgono per quello che si vede durante la settimana, per quello che è stato fatto nella gara precedente, per equilibri che ci possono essere in campo, per centimetri che talvolta sono necessari per giocare contro un certo tipo di avversario, quindi le valutazioni sono complesse, però è chiaro che teniamo conto anche della prestazione nella gara precedente, ma teniamo conto anche tanto del lavoro durante la settimana. Una squadra che ti concede pochissimo nella fase offensiva, si difendono in undici, dove due attaccanti sono i primi a dare pressione, dove lo fanno spesso tutti e undici nella loro metà campo e questo ci porterà ad avere poco spazio, dovremo essere bravi ad avere pazienza e tutte le volte che la palla arriverà ai 3 o ai 4 davanti dovremo essere bravi a fare le difese preventive perché sono particolarmente insidiosi poi dopo tutte le volte che hanno la possibilità di conquistare palla e ripartire, sia che lo facciano con il portiere perché spesso velocizzano e ribaltano subito l'azione con la palla lunga calciata da fumagalli sui due attaccanti o quando riescono a fare il break rubando palla in mezzo al campo.